... Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte, si è conclusa la prima tavola rotonda, è in corso la seconda, ma ritorniamo a parlare di uno dei temi che hanno costituito anche particolari interessi all'interno della prima tavola rotonda, ovvero l'intervento di Bank of Valletta Asset Management relativo al ruolo di Malta come possibile giurisdizione per l'investimento. Ebbene, a parlare qui è una persona che a Malta ha deciso di investire, che ci può raccontare la sua storia. Ho infatti l'immenso piacere di avere qui al mio fianco Eugenio Allorabondi, Director e Co-Found. Innanzitutto, perché ha scelto Malta? Buongiorno intanto. Perché Malta? Beh, questa è una domanda a cui devo rispondere sovente. Francamente la trovo un'opportunità per spiegare quanto la scelta di Malta sia rappresentativa della nostra filosofia. D'altronde non abbiamo scelto un domicilio per consuetudine o perché poteva essere, o poteva aiutarci un giorno nella distribuzione del fondo. Abbiamo scelto Malta perché l'unico driver per noi era la convenienza dei nostri clienti. Eco nasce nel 2015, è un fondo dedicato, come fondo dedicato a alcune famiglie, importanti famiglie, che io seguivo da oltre dieci anni. L'obiettivo era quello di ottimizzare la gestione dei loro portafogli. Malta, pur essendo uno Stato piccolo, è riuscita a creare nel tempo una legislazione assolutamente comparabile a quelle europee, con il grande vantaggio di avere dei costi decisamente più competitivi. E quindi questo ci ha fatto scegliere Malta come legislazione ottimale per i nostri clienti. Strutturare un fondo vuole anche dire raffrontarsi con il legislatore, vuol dire trovare controparti e professionisti nel paese. La nostra fortuna sicuramente è stata quella di essere affiancati, stati affiancati dal gruppo Bank of Valletta, che ci ha assistito durante questo lungo percorso. E devo dire che avere una controparte così forte, così competente, così presente nel paese, ti dà grande serenità, che è molto importante. Se dovesse individuare i plus che si possono avere nell'investimento a Malta, e ancora invece degli elementi che potrebbero avere margini di miglioramento, quali segnalerebbe? Sicuramente i punti a favore, come dicevo prima, sono i costi, l'essere allineato ovviamente alla normativa europea, il nostro è un fondo che adesso è sotto approvazione IFM, quindi sarà a tutti gli effetti sotto la legislazione europea. Forse quello che potrebbe fare è iniziare a investire maggiormente, nel cercare di attrarre fondi di maggiori dimensioni, e questo sicuramente è un fattore che potrebbe aiutare nel futuro avere un maggior numero di banche depositarie, che già oggi si sono, ma su quello sono abbastanza convinto che man mano che andrà avanti il mercato, il mercato crescerà e arriveranno anche controparti pronte a fornire questi servizi. Un'ultimissima domanda, so che lei ci tiene. Avete anche sulle finalità benefiche un piccolo vostro fiore all'occhiello, se così si può definire? Sì, sì, Eiko ha deciso da oltre due anni di dedicare oltre il 2% degli utili lordi a fondazioni benefiche quali IEO, Teleton e Les Enfants des Franchis, e speriamo di poter fare sempre di più. Posso solo due piccole parole su Eiko? Noi siamo un fondo Absolute Return, multi-strategi, abbiamo generato una strategia decisamente innovativa, si basa su un rimodellare, il calcolo di pricing return, di risk return delle opzioni e grazie a questo ci permette di poter affrontare qualunque tipo di mercato essendo consapevoli di poterlo affrontare nel migliore dei modi. Il tutto si basa partendo dal massimo rischio che possiamo ottenere, e quindi non partiamo dall'investimento nella ricerca del rendimento ma dal massimo rischio che possiamo ottenere e da quello deriviamo il rendimento. Io ringrazio nuovamente Eugenio Allorabondi per essere stato poi con noi per averci dato la sua testimonianza. Per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo la linea allo studio.